La famosa voce di Krusty Klaun nella celebre serie animata E. Simpson, ha curato la direzione di doppiaggio di telefilm e film tv ed è tuttora uno dei maggiori adattatori per quanto riguarda l'animazione giapponese. Suoi dialoghi italiani di serie come By Side School, Queras Folk, Ramma un mezzo, Beverly Hills 90.210, Angel, Party of Five, Mazzotta ha svolto anche l'attività di autore e disegnatore di fumetti, pubblicando storie su diverse riviste del settore tra le quali Topolino, Lupo Alberto e Cattivic, dove contribuiva con la strip horror fix. È ospite fisso nel programma Cosplayers, in onda su Music Box Italia, canale 821 di Sky, Fabrizio Mazzotta fa parte di Adam Italia, associazione che chiede di impedire la censura negli anime. Ha diretto il doppiaggio di Evangelion, Uno, Zero Juare, Not, Alone, Mavaru Pengindrum e curato i dialoghi di mobile suite Z Gundam. La sua attività di doppiatore è iniziata da giovanissimo negli anni 70. Fra i suoi primi doppiaggi quello di Danny nel telefilm La famiglia Partridge. Grazie. Grazie.